E secondo me, comunque K, ora devo andare, se mai ci sei domani perché devo proprio scappare Va bene però, dai allora domani Sì sì, come vuoi, tranquillo, tranquillo Va bene, a domani, ciao Loss Ciao ciao Allora Oi? Loss? Sei K? Loss? Sei proprio tu K? Che sei? Non ho molto tempo, era Loss amico quello con cui stai parlando? Sì? Non posso dirti chi sono veramente Però sappi che sono uscito a ottenere la password e l'email di Loss amicos, ok? Di cosa? Nell'account di Fortnite, ti sto inviando tutto, quindi adesso ti invio tutto in chat Sei serio? Stai fermo, chi sei? Non lo devi sapere Cosa vuol dire non lo devo sapere, chi sei? Ti sto inviando tutto in chat No, serio, serio, chi sei? Ma dove me l'hai inviato? Ok, ma cosa? Adio User left your channel Ma che cavolo? Ok, allora, aspetto un attimo e spero di aver registrato quello che è successo Questo mi ha veramente dato la password e l'email dell'account di Loss amicos Raga, in questo momento ho sia la password che l'email per entrare all'interno dell'account di Loss amicos Io in realtà non so nemmeno che cavolo fosse questo Si chiamava known su TS, quindi sconosciuto Non si sa chi fosse Non l'ho mai conosciuto, non so la sua voz Cioè, ditemi se voi lo conoscete, se è apparso magari da qualche altro youtuber Ditemi se l'avete mai visto per caso Io non ho idea di che cavolo sia Ma, solo per fare uno scherzo a Loss amicos Voglio provare a vedere se quell'email e quella password effettivamente funzionano Sicuramente lui sarà qualcuno che effettivamente conosce Loss amicos Perché altrimenti che cavolo potrebbe essere? Come ha fatto a ottenere la sua email e la sua password? L'unica spiegazione appunto è che si conoscano in qualche modo Non so chi sia, magari è proprio uno che effettivamente vuole fare appunto uno scherzo a Loss amicos Ma a chi potrebbe essere, raga, vi giuro, non ne ho idea Ok, allora, fermi tutti Voglio provare insieme a voi la password e l'email che questo ragazzo mi ha dato Ragazzo, non ne ho idea nemmeno di quanti anni abbia Non so chi sia Mi raccomando, raga, se veramente funziona Dobbiamo arrivare a 30.000 like Perché sarà uno degli scherzi più belli di sempre Che farò appunto al nemicoloso amicos Ovviamente noi gli spenderò v- Aspetta, forse potrei anche spendere qualche v- Vabbè, insomma, noi gli incasinerò l'account Non gli farò niente di bruttissimo Però voglio fargli qualche piccolo scherzo Se effettivamente l'email e la password funzionano Oltretutto, mi raccomando Non dimenticate di iscrivervi al canale E attivare la campanina appunto E vi c'è una tasta iscriviti per non perdermi tutti i prossimi video Codice cap nei negozi oggetti Se volete fare un altro scherzo All'account di Loss amicos Quindi mi raccomando, raga Obiettivo 80.000 codice supporto anche tu Appunto nei negozi oggetti Codice cap, mi raccomando E ovviamente iscrivetevi su Instagram Mi chiamo CaptableZeroOfficial Quello che volete che faccia l'account di Loss amicos Dato questo Let's go Ok, ok Sta funzionando Raga, sta veramente funzionando Ciao Samsung Loss È lui? Ditemi che è lui, raga Non è un account fake Non so se è un account fake Vi giuro Ditemi che è Loss Ditemi Ci sono tutti i suoi amici Ci sono tutti i suoi amici È Loss amicos Non ci credo Non ci credo Ci sono tutti i suoi amici Non è possibile Ho tutti gli amici di Loss Ho tutto l'account di Loss Vabbè, raga Dobbiamo assolutamente avviare Fortnite Dobbiamo avviare Fortnite Io non Non ci sto credendo, raga Ok, io spero di essere ancora all'interno dell'account di Loss Raga, si sta caricando Fortnite Io non vedo l'ora Se c'è veramente il suo account Farò un disastro Farò uno scherzo assurdo E mi raccomando, raga Su Instagram Correte a scrivermi un altro scherzo appunto da fargli Ok, allora, raga Il mio obiettivo è quello di registrare due scherzi Quindi se non se ne accorge Possiamo fare anche un altro video Quindi mi raccomando Correte su Instagram Raga Battaglia reale Siamo pronti Oh, io sono super curioso Corso a commercio Ok Non ci credo Non ci credo Sono sull'account di Los Amigos Livello 100 del pass battaglia Oh mio Dio Livello 52 stagionale Niente male Stagione 10 E ha la skin del Canada Che cavolo di skin Ah no, ok Mi sa che non è del Canada Sinceramente non so che skin sia Forse un suo paese Non lo so Ok, allora Raga Io voglio andare a vedere tutto Cosa sto vedendo Non ci credo Non ci credo Set della Galaxy No, raga Non è possibile 11.000 V-Bucks A 11 No, raga Mi raccomando Non perdetevi il prossimo video E condividetelo con tutti i vostri amici Perché nel prossimo video Gli andrò a sciopare Non so quanti V-Bucks Ok, dobbiamo approfittare di questa cosa Abbiamo l'account di Los Amigos Allora Cosa possiamo fargli Veramente Cosa possiamo fargli Qualsiasi cosa Prima di far tutto Vediamo lui come ha messo quelle sfide Perché io, raga Quelle sfide Sto messo veramente malissimo Beh, anche lui Nelle sfide Non è che sia messo così bene Sinceramente Non le fa nemmeno lui Ok E quello che invece Volevo andare Veramente a guardare Raga È il suo Armadietto Hey Mi raccomando Se non l'hai ancora fatto Non dimenticarti Alla campanellina E iscriverti al canale Per non perdervi tutti i prossimi video Ti lascio guardare il video in pace Ciao, ciao L'armadietto di Los Amigos Guardate quanti balli Quante skin E quante cose ha Allora Iniziamo con la cosa più importante Ovvero le skin Raga Quante cavolo ne ha Quante skin ha Mi sa che Los Amigos Ha più skin di me Oh, cavolo Guardate che figata Dominatrice degli abissi Di strutture degli abissi Ha il segugio da guerra Ma perché da lui È fatto in questo voto Mi sembra che da me Fosse diverso Non mi ricordo Sinceramente Non lo so Wow Leader della squadra No raga Ho un sacco di skin Che io vorrei che non ho Ne ha veramente un sacco Guardate che figata Gente elite E poi se non sbaglio Ho il set della galaxy Raga L'ho visto prima Ho visto il piccone Io voglio il set della galaxy Voglio per una volta Giocare con la skin galaxy Non ci ho mai giocato No Viaggiatore eterno Raga Ma che figata è questa skin Ma quanto cavolo è bella Poi abbiamo questa qui Yonder Tipo Oddio Questo stile di Yonder È veramente fantastico Questa che A me sinceramente Da dietro piace particolarmente Da davanti No Questa raga ma quanto è bella Questa skin Quanto cavolo è bella No guardate quante skin ha Guardate quante skin Belle ha Che io vorrei avere E che purtroppo Non ho Anche questa qui è bellissima Raga Bella veramente Come si chiama questa skin Malcol Malco Malcore Ma come cacchio si chiama Vabbè Ok andiamo avanti Skin galaxy L'ho trovata Ho trovato la skin galaxy No raga non ci credo Non so mica Cosa la skin galaxy Ok dobbiamo fare tutto set Con questa skin Perché è fantastica Poi ha una delle skin Che mi ricordo Efesto usava di più In assoluto Raga questa skin È veramente bella Mi piace un casino Oddio anche questa Che figata Il capo squadra Fuochi in artificio Questa che cavolo di skin è Oddio Mi fa quasi paura Raga mamma mia È un clown Non ci posso credere Quante cavolo Di skin Signore della ruggine Raga questa skin È veramente rara Sbaglio una delle skin Più rare del gioco Oh mio dio Los amigos Ma quante cavolo Di skin Ha nel suo counter Raga Ha anche tantissimi Backpack Raga è veramente Fornitissimo Los amigos Però ovviamente In questo caso Userò quello Della skin galaxy No raga Dai ma quanto cavolo Sono belli Sti backpack Guardate che fighi Sono le cose più belle Di sempre Los amigos Mi dispiace Se stai guardando Questo video Al momento Indovina chi ha Tutte queste cose Sono tutte mie Raga non posso crederci Guardate che figata Guardate che figata Ok ovviamente Io non voglio far danni Alla caudine Los amigos Perché sinceramente Siamo amici E ovviamente Non voglio rovinargli L'account Tranne sciopare Qualche vimax Questo si che lo faremo Però nel prossimo episodio Quindi mi raccomando Un bel like se volete vedere Iscrivetevi al canale Per non perdere appunto Il prossimo episodio E codice cap Nel negozio oggetti Per farmi capire Che ve lo Anzi 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 A proposito Di codice cap Anche los amigos Usa il codice cap Ho messo il codice cap Nell'account di los amigos Che è fantastico Poi vediamo un po' Come ha messo Los amigos a picconi Vabbè ok Sì niente di che Carini Niente male Bello questo Bello il morso No regà Quanto è figo Questo ma quanto è bello Anche questo qui È veramente super bellissimo Costano un sacco Sti picconi Ah questo qui Ha il piccone elettro E penso uno dei picconi Più rari in assoluto Anche questo Se non sbaglio È veramente Molto Molto raro Los amigos Il tuo count è una miniera d'oro Invece vediamo un po' Che cos'ha come deltaplano Uh bello questo Vabbè ok Il deltaplano ovviamente È quello della galaxy Regà cioè nel senso Dobbiamo copiare i set della galaxy Ovviamente Oddio regà Che balli ha los amigos No aspetta 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 Voglio vedere se trovo I miei balli preferiti Allora il robot È in assoluto uno dei miei balli preferiti Che purtroppo Non è nel gioco Quindi molto molto bello Fai badranisco Ce l'ho anch'io Datti una mossa Ce l'ho anch'io Penso Breakdance Non lo so Sinceramente non mi ricordo Questo Oddio non mi ricordo se ce l'ho Vai col ritmo Sì che ce l'abbiamo Questo qui invece Non mi sembra di averlo Regà sinceramente Billi rimbasera Vabbè mamma mia No aspetta regà Uno dei balli più rari In assoluto di Fortnite Questo lo mettiamo assolutamente No sei un perdente Pa 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 Questo è los amigos Ah ciao los No anche il floss Non ci credo Regà io questo purtroppo Non ce l'ho come ballo Non lo so Non so che molti di voi Mi odieranno in questo momento Ma non ho il floss Come ballo nel mio account Finalmente lo sto vedendo All'interno del mio gioco Tra virgolette Cioè nel senso Il gioco è il mio Ma l'account no O almeno Siamo sicuri che non è mio E regà con questi tre balli Super mega rarissimi Io direi che possiamo iniziare Vediamo un po' il tuo profilo 243 vittorie in singolo 193 coppie 164 in squad Hai 854 come livello account Ok E raga sperando che non se ne accorga Sperando veramente che non se ne accorga Io direi di cambiare anche lo standard Ora si che si ragiona Non quello standard Brutto che avevi prima Cos'è dub profondo Cos'è sta cosa Non l'avevo mai visto Vi giuro Ok Allora raga Sto provando a giocare Con i comandi Di Los Amigos Sono effettivamente in partita Con l'account di Los Amigos E oh mio dio Come cavolo fai a buildare Con questi comandi J Ma come cavolo fai Raga vi ricordo Nel prossimo video Andremo a spendere i V-Bucks A Los Amigos E lì si che ci divertiremo Oggi è successo qualcosa di veramente veramente strano Perché altro video inaspettato Quello che abbiamo fatto sull'account di Los Amigos Non dovrebbe farci scoprire Quindi sicuramente appunto Los Amigos non se ne accorgerà Perciò la prossima volta Gli andremo a spendere i V-Bucks Raga La prossima volta sarà quella veramente divertente Gli andremo a spendere non so quanti V-Bucks Quindi mi raccomando C'urma un bel like Iscrivetevi al canale Con il check up dei negozi oggetti Per un prossimo video Ma adesso L'obiettivo è almeno di fare Una kill con i comandi di Los Amigos Il problema raga È che a parte il fatto Che io non li conosco i comandi Oddio Non sono nemmeno sul mio account Quindi nemmeno le impostazioni sono uguali Nemmeno Oh cavolo la sensibilità Niente è uguale Ok pistola pistola No 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 Oddio Ho fatto una kill Ho fatto una kill Non ci credo Ok sono morto Non so come però Almeno ho fatto una kill Detto questo C'urmi vi ricordo Un bel like Obiettivo di oggi 25 anzi 30 mila like Per un prossimo video Non dimenticate di iscrivervi al canale Attivare la campanina Per non perdere appunto Il prossimo video Con Los Amigos Raga gli ruberemo i V-Bucks Dall'account Quindi mi raccomando Non perdetevelo Inoltre raga Ditemi su Instagram Mi chiamo CaptainZero Cosa appunto Volete che io faccia L'account di Los Amigos Vi ricordo Nel prossimo episodio Andremo a rubare i V-Bucks Ma mi raccomando Iscrivetevi qualcos'altro Da fargli Io spero tantissimo Che non si raccolga Voi raga rimandete sintonizzati Ciao